Gli agenti del commissariato di Cerignola non hanno dubbi. Quello scoperto in un casolare di campagna incontrato a Santa Maria dei Mansi era un covo della mala locale. L'edificio appartiene ad un agricoltore che sinora non ha mai avuto problemi con la giustizia, il classico insospettabile. Si tratta di Vito Conversano, 52 anni. All'interno della sua tenuta sono stati ritrovati un fucile calibro 12 rubato nel marzo scorso a Candela ed una pistola che da giocattolo era stata trasformata in arma autentica in grado di sparare vere munizioni calibro 6,35. C'era anche una autovettura rubata, una Ford Fiesta. La scoperta è stata fatta nel corso di uno dei tanti servizi di controllo intensificati in questi giorni a Cerignola. Sono condotti oltre che dagli agenti del commissariato anche da uomini del reparto prevenzione crimine di Bari. Le indagini proseguono per risalire a coloro che quelle armi possono aver utilizzato.